Fala bene per il culo da lui Ma di, di che faccia qualcosa anche lui invece di fare solo in normal pezzi di merda Salve a tutti ragazzi, buongiorno, si sono Adalbis E io sono Locke, benvenuti su Stupro del Test Strike Test Strike oggi È una vita in mezza che non giochiamo Offline Gatto, offline tra di noi Offline Offline E io c'è con Ken, non me l'ho fatto il cazzo che è il più pro di tutti Tra l'altro Dotto sciocco Un duo t Un bottom t, eh Ma che bo, ma tanto che cazzo ne sappiamo noi Che cazzo ne sappiamo Io parlo così perché non mi si sente mai, sto cazzo di microsoft Ma ce l'abbiamo messo davanti al culo di Adalbis Adesso l'abbiamo messo davanti al culo di Adalbis Perché parla col culo Tipa, 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 tipa giù Non l'abbiamo neanche fatto apposta, eh Eh, vabbè, il destino, il destino, meno male Un po' più o meno mare Adoken Adoken, io gioco come in Street Fighter C'è quello quattro Quello quattro Ma tu hai questo cazzo di film che fa schifosi I personaggi Ma che film? Ma cosa c'ho? Io a tv c'ho i film No, la tv è una funzione del gioco Ma guarda l'Albis come parla tutto E il film HD che gli può schiumare Ah l'X-Up Non ci capisci un cazzo Non si vede neanche il micro pro di un video Se mi ha fatto tutto perfetto Se mi ha fatto tutto perfetto Se mi ha fatto tutto perfetto Bravo Solo quello perchè Ma che fonte per pensare Oh cos'era? E il tazzo in volo c'è anche qui Tazzo in volo forever Proprio Ma stiamo giocando con l'audio a manetta Ma non va Ma chi se ne frega Ma non ve la da Ma io se ne frega il microfono Ma proprio più in teoria l'audio sulle casse Vero, vero, per se ne frega Molto nuovo per noi Devo ancora capire bene, però Ma si No ragazzi piano piano questo microfono Lo comprenderemo Oggi su TeamSpeak Un Piero Un Piero Iscritto oggi fa Eh si Avete detto che avete cambiato il microfono Ma non hai cambiato un cazzo Anzi Forse è peggio Forse è peggio Un honesto commento quello cazzo E io ho detto Eh ma dobbiamo ancora prenderci la mano con software Guarda che nei primi video era peggio Nei primi video usavamo un programma di Guarda che il comeback C'è il comeback C'è il comeback Non so se notate Bellissimo Non lo farei stronzo Non so se non devi urlare il microfono C'è lì in faccia Non c'è bisogno di urlare E' vero non devo urlare E di nuovo ho fatto un'onda Noma la sola cosa Vabbè ma sentite Un'altra volta in Marvel Vabbè ma in Marvel C'è un motivo Vale tutto Vabbè ma pari stronzo Ci sta sempre Come il comeback ho fatto Mi pari stronzo Come il comeback Tra l'altro Tazzo in volo Ma non sempre Ma non sempre Poi non parirò più piano Urlerò sempre Bravo Non è vero Non è vero Di questo microfono Che possiamo urlare in 3 E si capisce meglio Meglio Però comunque I picchi di audio fai... Perché è amplificato il suono Vabbè stiamo parlando sui microfoni Spara! Spara! Eeeh! Perché usi top tier! Usi top tier! Vergogna! Ma che top tier? Io uso Ken tutta la vita Ci fosse in Marvel e usare Ken anche in Marvel Sì è vero dai Hai dovuto prendere Ken in un altro colore? Schiaccia! Vabbè piglio un altro personaggio perchè tanto non è Tanto per me è un guai Eeeh Però fammi pigliare un PG che è almeno un minimo Oro! Ce l'avevo! L'ha marinato! Vabbè lo prendo per simpatia così Lo scelgono anche la ruta Mi hai fatto un cazzo Vabbè dai mi hai fatto un cazzo Vabbè Culli no! Cianli Ma si gioca per comore Cosa vuoi farmi? Levo moment Contro! Devi prendere qui il cazzo E poi non è un alieno ma è un vecchio E' un vecchio che si tiene il braccio Sondaggio! Che ce l'ha il braccio fra l'altro E' quello che troppo sgrava lo andano più a fuori No no! Sondaggio tra gli utenti! E' un alieno Uno o un alieno? E' un insulto lieve se un alieno E' un alieno? E' un vecchio? E' un vecchio? E' un abe tipo di quel vecchio gioco E' abe o di si Si era bellissimo E' lui comunque Follow me Ok E chi si ricorda quel gioco? Vabbè ci ricordiamo tutti Quelli che hanno su sopra i 20-30 anni E' un alieno Provo comunque di Abe Vabbè per me è Abe Uuuuh non so cosa ho fatto Oh no! Hai sbagliato Iper tipo Ma va bene uguale Oh che amico Che popolo Iper Ma mica è una figata olo Te l'ho detto che il main L'ho mainato ma non volevo dirlo comunque C'è proprio c'ha lì tanta roba Non ce n'è Sai sicuramente un match up favorevole Magari noi non bevoli Ma è morta lì Ma guarda che non c'è lì basta sparmare l'enorme la casa Cioè proprio Ma secondo te rischia di fare l'enorme la casa Ma non lo so Ma scusami Segue follow up E' tipo tutto sempre Si guarda Si guarda quella in ex E' una figata E' una figata E' una figata Ok E' una figata E' una figata Ma bello Ho fatto più salto Ma Ma è un bel culo Ma si c'ha delle gambe Ma le tache Ma le tache Anche le tette grosse Charly Ah si è vero Mi sono rinformato oggi Ah Ho gusto oggi le hai guardate E beh oggi c'è Ho guardato la taglia delle tette di Charly E' un Bt 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 Noi siamo esperti di tette italiane Diciamolo Ma grandi esperti Quindi Su quelle americane Non abbiamo ancora bazzicato Si Un giorno ci facciamo un salto E' Chiavo che non ne torna a casa una Vabbè ma ovvio Sono tutti in aereo con noi Dobbiamo prendere un paio di Jumbo Per poter vedere che ci si chiama Un intercontentato Scortati dagli aerei da caccia con i tessi Perché comunque c'erano super fatti in aereo Ma ma scherzi E' un po' invenzione Oh Fai Fai Non spara niente Ma Jala Madonna 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 sembra di nuovo hai stai farmi parte siiiiiiiiiii ma è vicino nooo e vi andiamo a scherziamo non per se due sui Julio ma adesso, aspetta tre tre tra i te adesso non ci scherziamo tre a te, questo diventa tantissimo il video comunque va bene per me ci sto eh ci stai andiamo a tempo se diventa troppo, ragazzi mi fottete mi fotte l'ultimo che gioca si chiaccia se mi metti mezz'ora chi vuoi è adatti cazzo devi tardato in carro figlio che tu puoi fare random ormai fai random ma ma stai stai tu sai come si fa la random? la! hai fatto la random? yeah! D'Albis fa la random ma faccio la random per dare una possibilità a lei se no... io almeno c'ho duttino tu non l'hai visto ma che cazzo è? mi spiaggia mi spiaggia basta D'Albis ma perché va a perdere tempo? parlo io stasera il tempo stringe tu credi ma non è... il tempo stringe ah si è quello che fa è quello che fa è quello che fa mi faccio Chango veramente col mio filtro e no si vede di merda come si fa a continuare sta cosa? si fa le 3 aaaaa ma che cazzo è andata? faccio un po' di pari vabbè comunque la Dina ha voluto da dare tutti i maggi come vedi? uuu 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 ok abbiamo tutte queste prese da... vabbè ma questo non devo fare... non ho idea non ho idea salto e diagonale basso meglio dimmelo quando è finita eh dai finito dai finito calcio 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 salto e poi calcio medio basso a duke nini davanti a duke nini davanti a duke nini davanti dai calcio medio vabbè calcio medio duke vabbè calcio medio duke dai calcio medio duke che forte duke un pugno forte dai ho preso calcio calcio medio duke eh beh non lo prendo mi da pressione vedi mi da pressione si si ma anche snuch Always Quick no attenzione al raldrager si sta prendendo la mano eh sto scaricando gli angle lo sto scaricando eh uuu ma come risponde uuuuh Passi he pammacchina hITH Wgar chi va? lei mi intanto non Così almeno ti togli la sua microfona. Così nel caso la mia ultima cosa avrà poco. Perché sennò vinco troppo e la gente piange. Però adesso il problema è che il microfono è davanti alla faccia di Loc che è l'unico che si sente troppo. Non puoi mettermelo dietro. Si, non te lo metto dietro Loc per un po' te lo metti dietro. E ti piacerà anche. Così, così va bene. Qual è il problema? Lo giro verso di te, verso di voi. Così, perfetto. Io parlo comunque così. Adesso di se si costruizza il microfono solo per un pezzo di merda. Ho visto gli ultimi video. Dite la verità, gli ultimi video chi è che sentiva di me? Ma non gliene ha fatto cazzo. Ma non gliene ha fatto cazzo a nessuno di sentire ad altri. Poi voglio far commentare un po' la gente. Oh, le tue scuse. Se ne hai messo in bocca. Poi mettete gli piace su Facebook, condividete il video. Ma condividete un po' gli altri video che magari aumentiamo un po' i ranghi. I ranghi di super pagina rossa. Vi hai messo l'asta in testa praticamente. Ma non ce l'hai, non ti preoccupare. Ho l'ansia, ho l'ansia d'asta. L'asta in testa. L'asta grossa poi. È sempre l'ansia. Mi piacere. Un'ansia che non vedo bolla. Un'ansima a fiori. Sto giocando con te, non puoi pensare alle aste. Non puoi pensare alle aste di Alex. E' il classico muscolatore che c'ha. Si, Alex si. Riu secondo me è zitto zitto. No, Riu c'ha ancora. Allora, commentate il sondaggio che c'è più. C'è più grosso, Alex o Riu? Anche se è Riu giapponese. Mi lasciami i commenti perché ci sono 3000 sondaggi. Preparatevi. Preparate la tastiera. Preparate il pene. Esatto. L'altra volta. Tanto stiamo guardando la partita che siamo lì lì. Eh, ovunque, ovunque. Perché c'è scritto col sangue Ken dietro? Non è sangue, è un graffito. No, no, è scritto col sangue. E la palestra di Sean e Ken. Bravo, tu si che sai la storia di Street. Siamo un nerd, ragazzo. Eh, lo so. Quello pure lontano. E glielo vuote. Ma uno di quelli ha definito la storia. Lei! Non sento offendere la madre di Locke per la prima persona. Ma lei, il tazzo è bravo, Locke. Però ce l'ho anch'io qualcosa per te. Eeeh. Ma lei non ha un pozzo di Sean e Ken. Eh, io potrei fare anche le cose. Ale, vedi questo tipo. Questo si. Ma sapete che per fare i pari in basso, basta scherciare in basso. Non dire un ale basso. Ah si? Te lo giuro sul nostro signore Gesù Cristo. E' che già insultato il nostro signore troppe volte. Io? No. No. Ma perchè non ha fatto questo? Shoryuken! Ha fatto zero vita per entrambi. Ha fatto una Duken di Ryu e lo sa. E lui aspetta solo per fare la Duken per la taglia in testa. E chi l'avrà vinta adesso? Boh, dura mezz'ora. Oh, oh, oh. Ma va, ma va, va a farci fare. Ma va, vai, va, vai, vai. Vabbè, sei un figlio di puttana. Sei un figlio di puttana. Un bel istruzzo, lì! Eeeee! Io devo urlare se la propria sentire. Non sempre. Non sempre, n'è anche voi di microfoni. Ma come lei è giusto accendere. Ma guarda dove c'è il microfoni, tanto. Ma ti rendi conto di dove c'è il microfoni? Ma ti rendi conto di dove c'è il microfoni? Voglio sentire l'audio di questa volta che parrà tutto proprio. Come è tutto. Come è partito? Questa vale tutto, adesso l'interno E tutta ciubacchi Tutta ciubacchi Tutta eh? Tutta ciubacchi Quello cos'è? Mi sfidavo? Mi fa party bag, eh, sto sto You can't escape Ah, you can't escape, è proprio vero Si fa la sua serie, si fa la sua serie Ma cos'è, adesso cambi Scusami Ma adesso, ora che faccio la culo Cioè, studiato una cosa, che tanto? Non ho studiato Poi non lo sapete, allora Io ho tre anni che non gioco E io invece ho giocato ieri con la sola Perché noi oggi abbiamo detto, ma facciamo un video di strada Ma se neanche ha messo la cosa, perché ce l'hai rapido Ce l'hai rapido? Scoglione Scoglione Ma faccio random Ma cazzo tuo Come si permette per random, tanto Cazzo tuo, io prendo Ken Cazzo tuo è proprio Ma quando uno è bravo e picchia duro E' bravo in tutto E' una brava di picchia duro, è bravo nella vita E' una brava persona anche nella vita Oh Vabbè da Sean E' una minchia Ma hai usato Guarda qua le due dei deboli Gli giambini Ma questa è la terza, la seconda La seconda Quindi facciamo le due, perché tanto un po' non mi piace E' un po' non mi piace Non si sta mai, io ho sempre paura Assanette Assanette Quello è che su Youtube nessuno parla a Biemontese Noi invece siamo venuti Noi non avevo idea, quindi in ogni caso Non è che si fa voto di bene Dovresti leccare il collo anche Ma sai che lei è una Coglione E' una manciata di capelli Come vincere è facile Come si fa a leccare il collo all'altro? Non vuoi fare la terza? Si devono fare di stronzo Si devono fare di stronzo eh Ma si dai il giocomino dopo tanto ho già vinto Per me io ho già trovato Random, cazzo è tuo Random 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 E quanto tempo è che non diciamo un random random? Guarda che rotto nel culo C'è proprio Adesso lo rifai Adesso vieno la console Vabbè che così prendiamo il video Prendiamo il video e lo rifacciamo Qual era ma che cazzo Ma che cazzo delle parole Potevo mettermi un po' di handicap per far vinciare le cose Ma metterla che no E' tranquillo Ma sei un cazzo di handicap Se sei sud e i handicapati in ascolto Grazie per averci seguito Ma ci faccio che Dove avere compagnia aerea Eh ho detto Pier Eeeh Sto a vedere 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 Sei buio io cazzo Da Ma è solo quello Ma togno tantissimo Ti piaccio Ma trovo te con quello Si Oh eh Di aperte strike Si e questo gioco Si E' un'idea Eccola non mi vedi Ma dove cazzo sei C'hai teleport Ma non esistono i teleport Guarda che schifo Vince colpile perché Ma che fai schifo Guarda lì che stai già facendo Guarda lì che è pronto Spara qualcosa Eh non devo aspettarmi E' la motollina! Devo fare tutti i pari! Ma che cazzo vuoi fare? Che non sai neanche cos'è! Guarda lì! Ma non sto vedendo tanti pari! Sono un po' dei pari! E' sempre! E' il mio motivo di vanto principale! E' un po' dei pari! Anche! I pari nella vita sono due pari! Tu vai sparagli addosso! E' un figo! Mi sembra perché lavora un campo... Guarda lì! Oh! I Romine ascoltano come finete ma... Io DIAAMO! E' ci ascoltano davvero! Ma che sono già pottuti durante questo giro! Ci vengono a prendere la casa con il fru-ray! Guarda che roba! Ma quanto cazzo tu! E' la prega con Mangretto! E' la prega con Mangretto e la mezzanina! E' erano avanti pari stronzi! Olè! E' niente volontario! Invece quello che succede all'occhio è sempre... E' vero! Ma lui non vedi hai capito! Che faccia è la regola! Non è di piggere a capire! Sono regole generali! E' un elenco delle regole! E' un po' più facile! E' un po' più facile! E' un po' più facile! Ma si! Ma ancora un po' più facile! Adesso devo ricominciare a giocare! Ti ho giocato con il tuo cazzo di stick! Ah è vero! E prima non l'abbiamo detto! Io sto giocando con lo stick di lock che fa cagare! Allora lo stick di lock fa cagare il cazzo! E lo può usare solo lui! Perché è un pezzo di merda! E' un po' più facile! Noo sarà giusto! Vedrai questa volta sarà giusto! Perché tu ti senti anche dal corinoio! Rai item! Ma questo che adesso non fai è facile! Madonna mia! Ma meno male che dopo giochiamo un po' a fly! E ci rifacciamo un secondo! Ma siamo fly comunque! Ma se quando saremo off the record! Siamo in outtakes! Piesto! Ma sono teso! Qua è evo moment eh! Evo moment è la malacassero! 36! 37! Mannaggia! Bravo che wallbowser! Non ci capisco un cazzo! Io faccio il tasto in volo e va sempre! Sì è vero! In volo! No questo! Dai! Ti fa prendere per il culo da lui! Ma di che faccia qualcosa che lui! Voi invece di fare solo in normal! Pezzo di merda! Si fa schifo! Vedi che lui ha usato tutti i mezzi! Se voi non avete ancora visto il tolke! Farete tutto per vincere! E' vero! Guardate come gioca l'hockey! Lui fa il figo! Lui fa il figo! Dice io! Io no! Sono una persona per vincere! Guarda lì! Cos'è sta roba! Guarda! Fai di tutto per vincere! Non dico più! Cioè veramente! Voi predica! Predica bene ma no! Hai pure rischiato! Ma va va! Ho fatto un solo basso forte per me! Sì! Qual cazzo! Aspettate! Perchè! Non è che usi il tolkeer! Ma guarda che non usa il forte basso! Ma lui a parte che usa il tolkeer! Ma usa anche le strategie punchy che trova! Guarda guarda guarda! Cazzo basso lungo! Guarda che lunghissimo! Guarda! Non posso neanche! Lo sai che sei una brutta persona! Cioè! Alla fine! Alla fine! Sei proprio una persona malvata! Oh! Qua invece! Ti apprezzo! Che apprezzo! Perchè io! Non ti sta facendo danno! Si! Non ti sta facendo danno! Si! Lo so! Guardalo guardalo! E tra l'altro encounter fa pure più danno! Come un pezzo di merda! Si! Allora! Allora! Questa volta! Aspetta! Un insulto grave! Guarda! Un insulto grave per loco come si sta comportando! E non c'è scelta di mettere sotto i miei! E' solo insulto grave! E' schifo! Guardalo! Guarda! Non mi impegniamo neanche ovviamente! Campione! Del! Mondo! Adesso fai un random random! L'altro lì fa basso forte! C'è lì! C'è lì! C'è a lungo così c'è lì! C'è lì! Cosa è sta cosa! No! Ok! Dio! 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 Ah no, il cazzo è... AH FA CULE LOCK! GG ad Alvis comunque Quanto ne abbiamo? E' buona che ha vinto più di tutti Basta, mi fate due, ma se... Passiamo a 25 minuti per non lo guarda nessuno Tu c'hai vinto, ma... Ma non è vero Tutto cosa cosa? Si perchè hai vinto Si perchè hai vinto Ma facciamo un video d'altra mezz'ora di Telestrike Ma che cazzo lo vè? Ma guardate questi video Finito Vabbè perchè non ci stiamo impegnando Cioè sei mesi che non giochiamo Ma al solito Ma dai ma è scelto lo stesso E' proprio ma con la stessa roba Ma sempre c'è merda E l'ho fatta a pote Ma che pare viene noioso sto video Ma chi lo guarda? Ma non per me Lo dico per la gente a casa che si fa Ma devo sapere se vincere Dai contro il jab Ma c'è ho già vinto contro il jab Ma hai vinto contro il jab Alcalvis vs jab Ehm... Che non è un cacca forte Ma dai che pare Devo solo fare le cose forti Tipo il calcio corti e basta Per fare contro il jab Per fare contro il jab Ti prego Alpi gioca solo Non parli male Eh no c'è dietro l'altro Mi supporta Mi supporta Mi supporta La Tu devi giocare tipo Quando giocavo vent'anni fa Mi forti e basta Si Avevi il controllo Puoi giocare solo così Eh no vabbè Bisogna giocare con la cosa Più... meno divertente Tipo il contrario Diciamo nell'ultimo... L'ultimo... Ma hai vedi te l'ho detto Ehm... Io vedi c'è per fare un gioco Vedi c'è per fare un gioco Vedi c'è per l'ultimo Guarda Guarda Non c'è per niente a dire Devi morire della merda HAHAHAHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHAHAHHAHHAHHAHHAHHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHAHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAHHAH curbi 그 vi morire della mEerda Ha vedi c'èo del gioco però anche nella... Noo no 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 Dai non facciamo nulla perchè sono a conto perchè se non vanno a andare su di voi perchè cazzi li monta i video anche se nel secondo canale abbiamo visto che un canchino ce la possiamo cavare ce la possiamo cavare alla fine se non dovete stare malato se stai male una volta mettiamo video raw c'è anche cos'è stai insieme vabbè ragazzi come al solito è delirio ma questo è un lunedì for fun è un lunedì for fun siamo in amicizia ci odiamo tutti ci citeremo dopo sto video al prossimo video grazie a tutti io sono Ray e io sono Loc commentate un'orgia un'orgia di feroci come Loc in realtà sono grosso sono un'orgia di feroci ma adesso no madonna Ray porca puttana